Cristiana, l'incontro con la Svezia è alle spalle, avete avuto il tempo di analizzarlo. Quale insegnamento avete tratto dalla sconfitta di sabato? Sicuramente quando perdi è sempre un grosso insegnamento e la sconfitta contro la Svezia ci ha insegnato che tralasciare i dettagli è una cosa importantissima da evitare perché a questi livelli trovi squadre che ti fanno male e se non sei in grado di reagire subito possono ammazzarti. Così è stato con la Svezia perché abbiamo preso veramente tre gol in pochissimi minuti che ci hanno ammazzato. C'è grande voglia di riscatto, si percepisce una rabbia positiva, possiamo definirla così? Hai detto bene, una rabbia positiva assolutamente perché abbiamo una partita fondamentale tra qualche giorno e dovremo essere in grado di mettere in campo tutta la rabbia che abbiamo avuto nelle ore successive alla partita con la Svezia ma in modo positivo come hai detto tu, nel senso che dobbiamo vincere senza fare calcoli e soprattutto tornare ad emozionarci un pochino. Qualunque cosa accada mantenete ben saldo quel filo che vi unisce. Parole di Martina Rosucci. Si può dire che l'unione del gruppo è una componente fondamentale in vista del prossimo match? Marti sa sempre dare la chiave di lettura giusta e se devo immaginare e pensare a un oggetto materiale è proprio quello che ha detto lei e non ha sbagliato neanche stavolta diciamo così quindi ha proprio ragione, quel filo che ci unisce ci deve essere e sempre, in qualsiasi momento, sia quando le cose vanno bene ma soprattutto quando vanno male perché ci permette di continuare a guardare dritto all'obiettivo tutti insieme. Ci attende di fatto una finale contro il Sudafrica? Quale insidie c'è la Sudafrica? Sicuramente la pressione perché sai che è una finale e come ogni finale può giocare brutti scherzi a livello motivo però insomma se giochiamo come sappiamo possiamo sicuramente dire la nostra. Da capitana che cosa ti senti di promettere ai tifosi della nazionale? Ma è quello che abbiamo sempre messo in campo credo quindi l'impegno, la professionalità e l'attaccamento a questa maglia sapendo dove siamo, sapendo cosa rappresentiamo e questo tricolore che batte sempre forte sul petto lo sentiamo tutte quindi porteremo questo fuoco che abbiamo all'ultima partita sicuramente.